in perfetta sintonia con l'ambiente mostrato in precedenza abbiamo la zona giorno ecco vedete contraddistinta dall'elemento legno legno che renderà molto prestigiosa a casa vostra e questa una composizione che di legno vedete lo abbiamo un po dovunque e immaginatelo in casa vostra e che renderà appunto più accogliente più caldo tutto quello che è verde qui intorno ebbene in questo caso ecco vedete abbiamo un articolato questo ambiente in una maniera ottimale pensavamo di realizzarla al meglio così ma sarete soltanto voi a personalizzare quello che sarà il futuro ambiente di casa vostra pertanto la stessa maniglieria viene riportata ecco vedete la boaserie la maniglieria sono uguali abbiamo chiaramente due cassettoni nella parte inferiore ed uno nella parte intermedia ebbene mobili per nuove generazioni personalizzati e questa l'azienda i nobili per questa parete unicamente per un periodo limitato l'importo è 2.100 euro ma pensate che la camera da letto e questo ambiente insieme costano 7.800 euro con un televisore in omaggio per chi acquisterà in tempi brevi pertanto vi invito veramente a venirli a vedere questi mobili perché saranno sicuramente rispondenti a quello che vi aspettavate e forse di più e ancora abbiamo il tasso zero quindi tale somma potrà essere eventualmente corrisposta in 36 rate a seconda di come meglio si personalizza al vostro andamento economico familiare io vi invito soltanto a vedere e vi prometto che voi resterete veramente entusiasti ma soprattutto vi accoglieremo tutti con un buon caffè a presto grazie a tutti